RL, 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 Movida Attiva Ogni venerdì dalle 18.30 vi portiamo nei locali più trend del momento Movida Attiva con Gian Piero Mazza su RLB Radioattiva RLB Radioattiva e qui Cosenza.it presentano Seste di colcio Bentrovati da Simona Gambaro al consueto appuntamento con teste di calcio del lunedì La rubrica lo ricordiamo curata dalla redazione sportiva di RLB Radioattiva e qui Cosenza.it Partiamo subito dalla bellissima vittoria del Cosenza ottenuta sabato sul terreno della Casertana Nella gara più difficile dopo la mezza delusione del derby Il Cosenza sfodera una prestazione maiuscola contro una delle squadre più forti del girone E si porta a casa l'intera posta in palio scavalcando in classifica proprio i campani E agguantando a quota 41 punti il Foggia caduto invece a Lecce al terzo posto Per tutto il primo tempo fatta eccezione per un palo colpito dall'ex De Angelis la partita non regala grandi emozioni Il Cosenza prova qualche ripartenza con i soliti Cavallaro, Statella e Criaco ma con poco costrutto Nella ripresa la partita diventa pirotecnica e piena di occasioni Il Cosenza è come un cobra abvelenato e ad ogni ripartenza dà l'impressione di poter fare del male alla retroguardia campana Anche perché la Casertana si riversa in avanti alla disperata ricerca del gol Lasciando però delle gigantesche praterie per i veloci contropiedisti rosso-blu che vanno a nozze Intorno alla metà del secondo tempo Criaco e Cavallaro si divorano due limpide occasioni da rete Anche se il match point capita sul sinistro di Lamantia che dopo uno stop di petto ed una mezza girata fa la barba al palo La partita però si decide all'ottantaquattresimo Rainone rimedia il secondo giallo dopo un fallaccio su Arrighini E due minuti dopo il Cosenza trova la rete del vantaggio con Arrigoni Che riceve parla da Arrighini e fulmina Gragnagnello con un forte e preciso destro Gli ultimi cinque minuti sono una bara onda con dirigenti che entrano in campo per protestare A loro dire per il pessimo arbitraggio I calciatori della Casertana che se la prendono con quelli del Cosenza perché hanno esultato Insomma sugli spalti i tifosi contestano ovviamente la loro squadra Ne fa le spese Finizio che protesta troppo e si fa buttare fuori lasciando la Casertana in nove Butov nel frattempo è entrato nel finale su un ennesimo contropiede e si divora la rete del raddoppio Ma non c'è tempo di disperarsi perché dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale del signor Pillitteri di Palermo che manda in paradiso il Cosenza e all'inferno una Casertana in crisi di gioco e risultati Pesantemente contestata dai propri tifosi E la prossima settimana tra l'altro al Marul arriva la Juve Stabia che sabato ha schiantato il Martina con un roboante 6-0 Passiamo adesso alle dichiarazioni post-gara Iniziamo proprio dal tecnico del Cosenza Giorgio Roselli Contento naturalmente per la vittoria e per la grande prestazione dei suoi ragazzi che non hanno affatto demeritato al cospetto della ben più quotata Casertana Per l'allenatore Rosso Blu c'è da migliorare soprattutto nei primi tempi dove troppo spesso il Cosenza sembra addormentarsi Era una sfida tra le due squadre che stanno facendo un grande campionato Queste due squadre come hanno dimostrato oggi stanno molto bene al di là che nel ultimo periodo la Casertana ha fatto meno punti Però ha cercato di vincere la partita fino alla fine come ha cercato il Cosenza È stata veramente una grande partita La cosa importante e non deve mai mancare è il concetto di giocare in un certo modo Cosa che abbiamo fatto poco nel primo tempo e molto nel secondo tempo Abbiamo avuto molte occasioni ma ha avuto occasione anche la Casertana Il calcio è fatto di questo È normale che in Serie A hanno una percentuale di realizzazione più alta Noi ce l'abbiamo meno alta Però queste due squadre ripeto hanno dato vita a un match soprattutto nel secondo tempo a viso aperto Fino all'ultimo tutte e due le squadre hanno cercato di superarsi Questo è stato un grandissimo spot per il calcio E per Roselli questa è una squadra che stupisce di domenica in domenica Non mollando un centimetro e il tecnico Umbro però pensa già alla Juve Stabia Non è cambiato assolutamente niente È cambiato il fatto che questi ragazzi ancora oggi veramente hanno stupito me e un pochino tutti Sicuramente come gara sarà molto più difficile di quella di oggi Da preparare mi auguro che i ragazzi recuperano l'energia perché abbiamo bisogno veramente Di stare benissimo per fare bene contro una squadra che oggi ha vinto 6 a 0 Dunque penso che stia molto bene E allora fin qui Mister Roselli Tra poco ovviamente ascolteremo i calciatori rosso-blu e anche le furiose dichiarazioni del presidente della Casertana Corvino Ben trovati da Simona Gambaro Siamo alla seconda parte del nostro appuntamento con teste di calcio Stiamo ovviamente parlando della vittoria del Cosenza contro la Casertana Abbiamo sentito Mister Roselli e ora passiamo alle dichiarazioni dei calciatori rosso-blu Protagonisti della terza vittoria su quattro gare esterne in questo esaltante 2016 Iniziamo con Marco Criaco Il centrocampista rosso-blu nonostante un colpo alla spalla che rischia di metterlo KO dopo appena 10 minuti Gioca il solito grande match Nelle sue parole la soddisfazione per una vittoria arrivata giocando a viso aperto contro una squadra forte come la Casertana Una grande vittoria perché comunque abbiamo giocato contro una grande squadra Che fino a qualche settimana fa era prima in classifica quindi non era facile Però penso che abbiamo fatto dopo un primo tempo comunque abbiamo un po' sofferto La loro persona abbiamo fatto un gran secondo tempo E' arrivata questa vittoria importantissima Noi abbiamo giocato sempre per vincere Poi se ci è riuscito o meno questo è un altro conto Però noi abbiamo sempre giocato per vincere Oggi si è visto siamo riusciti a far gol nei minuti finali e siamo felicissimi Solito grande lavoro a centrocampo a protezione della retroguardia Ma anche la lucidità per battere Gragnaniello a 4 minuti dalla fine con un potente destro E regalare la vittoria al Cosenza Andrea Arrigoni ci racconta il suo gol e il concitato finale con qualche calciatore della Casertana Non proprio felice di vederlo esultare Ho visto Reghini che era sul fondo di spalle e avevo spazio per poter tirare sul suo scarico L'ho chiamata dietro, è stato bravo lui a non intestardirsi, a voler tirare, a scaricarmela dietro E poi diciamo che sono riuscito a prendere in controtempo il portiere e a far gol Probabilmente hanno preso male il gol nostro, hanno perso un po' la testa E non so, sono pigliati con me probabilmente perché ho esultato Però penso che sia lecito la parte nostra e mia poter esultare quando uno fa gol E' stato un gol fondamentale, importante Sinceramente trattenere la gioia non mi sembra giusto Entrato sul finale al posto di Lamantia Prima si procura l'espulsione di Rainone Poi offre l'assist da tre punti ad Arrigoni Per Arrighini, una vittoria preziosissima che dà morale In un mese che si annuncia cruciale per le sorti del Cosenza Noi siamo abituati a pensare partito dopo partita Questa è la difficile, siamo riusciti a portare a casa tre punti in un campo difficilissimo E sicuramente ci dà un grande morale per questo mese che è fondamentale E chiudiamo le interviste post gara dei Rossoblu con le parole del capitano tedeschi Sappiamo soffrire come è capitato oggi nel primo tempo quando giochi una partita difficile come questa Ma non molliamo mai perché queste cose, queste sono le nostre qualità Detto il difensore Rossoblu Un gruppo di calciatori che non molla mai e lotta fino al novantesimo Sono appunto queste le nostre qualità Ho detto bene, questa è la squadra Magari soffriamo, andiamo in difficoltà Ma non cediamo, insomma Si può soffrire, è normale Giochi contro la casettana Sono partite difficili Però la qualità nostra è quella Di non farsi abbattere, di non farsi prendere anche dallo sconforto o dalle difficoltà E poi venire fuori alla lunga nei secondi tempi Creando anche diverse occasioni limpide Sono qualità queste Che vengono quando c'è un gruppo unito Quando c'è un gruppo sano e quando ci sono anche ottimi giocatori e ottime persone Con la casertana in silenzio stampa L'unico a presentarsi appunto in sala stampa è stato il presidente Pasquale Corvino Che come un fiume in piena ha accusato duramente la direzione di gara del signor Pilli Teri di Palermo Che a suo dire avrebbe sfavorito la sua squadra Così come è capitato anche nelle ultime dieci partite Ha detto siamo di fronte ad una situazione vergognosa Non siamo tutelati ed oggi come oggi Insomma in questa situazione non è più il caso di andare avanti Siamo persone che investono in questo sport Ma in queste condizioni non è ammissibile accettare certe cose E fare finta di nulla Dalle ultime dieci, dodici partite Per noi sono stata una tragedia Tranne il problema degli infortuni Però credo che a questo punto Siamo ormai alla quarta, quinta partita In cui veniamo penalizzati In modo così netto Noi non lo so se ci riuniremo in questi giorni Vedremo se è il caso di andare a Catania Non andarci O di metterci a andarcele Perché non si può continuare così Quindi se hanno deciso di affossarci Ormai penso che ci sono quasi riusciti Se dà fastidio la nostra presenza ai vertici di questo campionato E la nostra città ai vertici di questo campionato È una situazione che noi non avevamo messo in conto Se il campionato era un problema tra Legge e Foggia Ce lo dicevano prima Noi non avremmo fatto nessun tipo di investimento E non avremmo fatto nessun tipo di sforzo E allora chiudiamo qui il capitolo Casertana-Cosenza Tra poco ci occuperemo ancora di Lega Pro Della gara al Ceravolo tra Catanzaro e Catania Poi i risultati in Serie D RL di Radioattiva E qui Cosenza.it presentano Seste di calcio Ed eccoci alla terza e ultima parte di teste di calcio Allora restiamo in Lega Pro Pari ad occhiali al Ceravolo tra Catanzaro e Catania In una gara rovinata per oltre un'ora dal fortissimo vento Un pari sostanzialmente giusto In un match avaro di occasioni da rete Nitide su entrambi i fronti Con il Catania che ha avuto qualche occasione in più nel primo tempo A favore di Vento Mentre nel secondo tempo il Catanzaro ha spiorato il vantaggio In un paio di circostanze Ed ha avuto l'occasionissima con Razzitti Che da pochi passi non è riuscito a mettere in rete l'assist Arrivato da un colpo di testa di Moi Da ottima posizione Il Giallo Rossi hanno fatto di tutto Veramente per sbloccare la gara Ma il Ceravolo in questo 2016 sembra stregato Il Catanzaro dunque non vince in casa Dall'ultima gara del 2015 Giocata con Lischia In più il pari non serve a molto né al Catanzaro E nemmeno al Catania Con la zona calda della classifica Quella dei play-out Lontana solo due punti Abbiamo prodotto di meno rispetto ad altre partite Anche a causa del Vento Che ha rovinato il match per oltre un'ora Ma abbiamo il merito di aver reso equilibrata La gara contro una grande squadra come il Catania Sono queste le parole di Mr. R Al termine della partita Io penso che la partita sia stata Soprattutto il primo tempo condizionata dal Vento Che ha sfalsato un po' quelle che erano le traiettorie Però penso di aver visto una partita equilibrata Con poca occasione da una parte e dall'altra E penso che lo 0-0 sia specchio fedele Di ciò che ha espresso il terreno di gioco Forse oggi abbiamo prodotto di meno Rispetto alle altre partite Anche se avevamo di fronte una squadra Che ha dei valori probabilmente 10 volte superiore ai nostri Alla quale forse abbiamo concesso poco Già il fatto di rendere una partita contro una stessa del genere equilibrata Sicuramente ci rende merito L'occasione nostra l'abbiamo avuta Ne abbiamo avuta anche nel primo tempo Però penso che sia stata una partita bloccata Giocata prevalentemente a centrocampo Dove abbiamo avuto soprattutto nel secondo tempo Un predominio abbastanza netto Solo che abbiamo compuso poco E allora vediamo adesso tutti i risultati Di questa sesta giornata di ritorno In Lega Pro girone C Matera Messina 1-1 Lecce Foggia 3-1 Paganese Lupa Castelli Romani 2-0 Casertana Cosenza lo abbiamo detto 0-1 per il Cosenza Juve Stabia Martina Franca 6-0 Andrea Acragas 1-2 Catanzaro Catania 0-0 Melfi Ischia 3-0 E Monopoli Benevento 2-3 Vediamo invece la classifica Benevento in testa con 45 punti Segue il Lecce a 42 Foggia e Cosenza 41 punti Casertana 40 Matera 34 Paganese 32 punti Messina 31 Acragas 28 Andria e Juve Stabia 27 punti Catanzaro a 26 Catania 25 Monopoli 24 Melfi 22 Ischia 20 punti Martina 13 punti E chiude la classifica La Lupa Castelli Romani Con 8 punti E prima di chiudere ovviamente Scendiamo in Serie D Diamo uno sguardo Al ventottesimo turno di campionato Vediamo i risultati Vediamo i risultati delle formazioni calabresi Impegnate nel girone I Aissi di Reggio Calabria Siracusa 2-2 Palmese Frattese 1-2 Gelbison Cilento Rende 0-0 Agropoli Bibonese 0-3 Due Torribi Gorla Mezzia 1-0 Lo ricordiamo ha riposato il Roccella Allora termina qui il nostro appuntamento Del lunedì con teste di calcio Che torna sabato prossimo Con Marco Garofalo